Un servizio in più per i residenti nella zona collinare di Verbagna, una corsa inizialmente, due che si vanno ad aggiungere da Unchio a Verbagna. Diciamo che è una corsa aggiuntiva nel periodo invernale e quindi solamente fra le 9.20 a salire da Verbagna verso Unchio e alle 9.30 a scendere poi da Unchio. Questa corsa si va ad aggiungere poi al programma estivo che era già un pochettino più corposo perché aveva già tre copie di corse e quindi Unchio verrà servita con quattro copie di corse anziché le solite tre. Quindi questo è un aumento del servizio in via sperimentale per cui si spera che venga utilizzato effettivamente perché verrà verificato per poter capire se il servizio possa poi essere mantenuto. Ecco le zone collinari ovunque sono caratterizzate da un'utenza bassa però quello che voi offrite è un servizio? Noi offriamo un servizio, la zona si chiama zone a domanda debole proprio perché sono zone con scarsa densità abitativa e per cui solitamente hanno dei collegamenti che sono minimi. Quindi qualsiasi cosa che viene aggiunta è sicuramente un sacrificio nel metterla e quindi nell'aggiungerla e quindi si spera anche che venga apprezzato e che venga poi utilizzato ed usufruito. E' stata una battaglia del quartiere Nord che insomma ha trovato accoglimento. Finalmente siamo arrivati alla fine e io penso che sia un bellissimo progetto che giustamente non mi deve lasciare fuori soltanto Unchio. Quando già dopo un sogno scendevo questa corriera. Adesso iniziamo a vedere, io penso che cosa andranno bene. I cittadini di Unchio saranno contentissimi. Grazie a tutti.